Ho avuto delle brutte esperienze con i denti, ho avuto un incidente in macchina. L'ho visto il dottor Palma su Facebook e per curiosità ho mandato un'ortopanoramica. Ho aspettato la sua risposta, che la risposta è stata positivissima. In seguito all'incidente che ho avuto mi è venuta fuori la paradontosi. Ho trovato un famosissimo dentista a Milano che mi ha detto che mi toglie tutti i denti e mi mette dei impianti, però lui non ha guardato che di masosea io non ne avevo. Per cui mi ha messo otto impianti abitabili e in un'unica seduta ho fatto il rigetto dopo 30 giorni. La seconda volta mi ha messo altri otto impianti e ho fatto il rigetto dopo quattro giorni. A quel punto l'ho lasciato stare e sono rimasto senza denti quasi quattro anni. Non dico soltanto dal punto di vista estetico, che è importantissimo, ma ho avuto anche problemi di salute perché ho iniziato a farmi male allo stomaco, ho iniziato ad avere un sacco di problemi. Ho visto soltanto la radiografia dopo che mi hanno fatto l'intervento. So che l'intervento è stato difficilissimo perché ha durato quattro ore in anestesia totale, però mi hanno risolto sia la parte superiore sia il mascellario inferiore. Sono trovato benissimo. Prima di tutto sono rimasto stupito perché tutta l'equipe sono dei ragazzi giovani, ma professionisti che sanno perfettamente quello che devono fare, che sono bravi, che sono accoglienti, che parlano benissimo anche l'italiano. E sinceramente sono rimasto stupito che i miei denti sono venuti fuori perfetti. I miei colleghi mi hanno detto come ti trovi, quali sono i prezzi, e io dico che a livello di quello che mi hanno fatto come cura il prezzo è proprio giusto. Non ho nessun rimpianto per i soldi che li ho pagati. Il dottore Palmas con la sua equipe sono stati i singoli che mi hanno detto che possono farlo. E sono stati i singoli che sono riusciti a ridarmi i miei denti. Per me è importantissimo, prima di tutto, che come lavoro sono infermiera in chirurgia, per cui sono sempre in mezzo alla gente. Senza denti, senza sorridere, senza parlare con i pazienti, non è che ti trovi bene. Poi ovviamente è l'impatto che hanno i pazienti quando ti vedono per prima volta. Io già sono vecchio, ho 61 anni. Senza denti, figurati, come capolo pensi che ero fuori, no? Poi il discurso di estetica è importantissimo. Poi anche il discurso della salute, perché come ve l'ho detto prima, ho initiato veri problemi con lo stomaco, perché mangiavo pezzi interi, non riusciva a masticare proprio nulla. E poi non volevo arrivare a mangiare frulletto, cavolo. Sarà proprio così, cavolo. Perché voi mi avete ridato proprio il sorriso, come sono anche nelle vostre pubblicità, ma è praticamente detto, no? Poi approfitto che stiamo parlando così e mando un saluto anche al dottor Cerea, che è stato un chirurgo fantastico, che io non mi aspettavo. Io sono infermiera di chirurgia, per cui qualcosa me ne intendo. Non mi aspettavo che l'intervento venisse fuori così perfetto. Ti ringrazio, ringrazio a tutti voi per tutto quello, per come mi avete accolto e per tutto quello che mi avete offerto qua. Mi avete fatto sentirmi più o meno come ci fosse a casa mia.